Sempre più frequentemente negli ultimi anni, in Italia, come anche all'estero, penso soprattutto all'Inghilterra, agli Stati Uniti, la fiction seriale si occupa di storia e lo fa nei suoi modi, lo fa attraverso dei racconti che utilizzano la storia come sfondo, ma è uno sfondo, potremmo dire che non si accontenta di essere semplicemente una quinta teatrale sul quale far muovere dei personaggi, quanto piuttosto un vero e proprio mondo. Ecco, la costruzione di mondi sempre più immersivi, che siamo forse più abituati ad associare anche a delle serie ambientate nella contemporaneità, è oggi un fenomeno che riguarda proprio anche il period drama. La serie televisiva che mi sentirei di consigliare agli studenti, sempre nell'ambito del period drama, quindi la serie storica, è una serie un po' sui generi, tanto perché è antologica, quindi ogni stagione racconta una storia diversa. Si tratta di American Crime Story e opera di quel geniaccio di Ryan Murphy, l'uomo dietro alcune serie di culto come Nip Tak e American Horror Story. Ecco, Murphy porta il suo tocco molto eccentrico, molto particolare, molto personale dentro i grandi casi della cronaca criminale americana recente, ma lo fa raccontando delle storie recenti, usando il crimine come un filtro per raccontare come cambia quella società che in un certo senso fa da sfondo a quei casi di cronaca criminale. Per il convegno qui a Varese ho scelto di occuparmi di 1992-1993, una serie italiana molto particolare proposta appunto da Sky Atlantic, una serie che rievoca, potremmo dire, in questo è un period drama sicuramente, alcuni fatti della storia politica e non solo, recente italiana. Ne parliamo come di un period drama in questa occasione qui a Varese, ma contemporaneamente anche un noir, anche un thriller politico e anche una satira e una commedia nera. Davvero un tipo di prodotto che pur in un momento di grande fioritura, di tanta ottima fiction anche in Italia, soprattutto da parte di certa televisione generalista, penso all'ultima ray fiction, comunque penso che in 1992-1993 e presto 1994 trovi uno dei fiori all'occhiello più significativi della recente produzione seriale di fiction italiana.